I sindaci dell'area del cratere hanno ribadito il no al centro emigrati di San Giuliano di Puglia, anche al presidente Frattura. L'alternativa è un centro per studenti provenienti da paesi in guerra. Ascoltiamo. Dopo l'incontro in prefettura a Campobasso, i sindaci e gli amministratori dell'area del cratere sono stati ricevuti dal presidente della regione, Paolo Frattura, per discutere della problematica relativa alla realizzazione del centro hub per immigrati di San Giuliano di Puglia. Dopo aver approfondito e riportato l'incontro avuto nei giorni scorsi con il prefetto di Campobasso, gli amministratori comunali hanno ribadito in sostanza di posticipare qualsiasi tipo di decisione e di attuazione del progetto a dopo le elezioni regionali e nazionali. Nello specifico si è ribadito la ferrea volontà da parte delle amministrazioni locali di dire no al centro hub e di riconvertirlo ad un nuovo progetto di vera integrazione denominato Progetto Rondine. Tale progetto consiste in una scuola di alta formazione che pone al centro l'esperienza culturale, civile e sociale dei giovani dello studentato internazionale provenienti da territori e paesi lacerati dall'odio e dalla guerra che imparano a convivere con l'altro e a trasformare il conflitto in maniera creativa. Le amministrazioni inoltre hanno espresso forte preoccupazione anche per l'ipotesi di delocalizzazione di alcuni servizi e presidi essenziali per la sicurezza del territorio, come i vigili del fuoco di Santa Croce di Magliano, la casarma dei carabinieri di Colletorto e per una parte dell'organico dei carabinieri del comune di Bonefro all'ex villaggio di San Giuliano di Puglia. Per questo hanno chiesto al presidente dell'Aggiunta regionale di farsi carico presso il Ministero e la Prefettura per l'annullamento delle decisioni adottate.